BAYU BADU Ma cos'è lei che aveva raccoglie di un racconto? Ah, raccoglie di un po' di dei siti! Ehi, via! Ah, ah, ah! Ah, raccoglie di un po' di dei siti! Ah, raccoglie di un po' di dei sottotitoli! Ah, ah! Ehi! Dressi! Ah, ah, ah! KOKI! Ah! Adeslava! Ah! Abbracandi! Borka di cesare, gorghidi! Puh! Puh! Adiabari! Navafan d'arri kacce, simmi! Autore all'autostopni, dove vai fare? Ah, che sei fura! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Così!